insieme tutti i pezzi un giorno che siete svegliati avete detto basta dobbiamo ricreare queste cose esattamente diciamo che tutti quanti hanno voglia di fare di fare bene e di far conoscere a tutti quanto è buono il nostro prodotto e allora perciò abbiamo cercato di stituirci con un'associazione che ci rappresenti e l'abbiamo fatto abbiamo creato il festival sta andando tutto bene speriamo alla grande non bene, alla grande non solo presidente ma anche produttore, spiegaci un po' nel dettaglio sono il figlio di uno dei proprietari della miseria d'all'olanda a Gragnano e una miseria decennale dal 1989 1989, un po' dovevo passare a mangiare, se la suda e se la canta, i panozi non solo li mangia, li fa, li produce, crea l'associazione, fa di tutto e anche un applauso a tutte le persone che sono qui con la cabina per il Camillo, senti Camillo vuoi salutare qualcuno? Tu sei fidanzato? No, bravo, fai la migliore cosa, salutiamo tutte le persone che mangiano il panozzo, che ci fanno compagnie a tavola. Ringraziamo Camillo Arpaia, presidente pizza e panozzo di Gragnano, anche produttore, noi mettiamo un disco, io direi che mettiamo un disco, assolutamente, sembra qualcosa di frizzantino. Ma sì, io stai a testare a me e diciamo, abbiamo bisogno un po' di ascoltare qualche pezzo, io direi, di reggaeton, no, senti un po'. Camillo, come ti trovi con il reggaeton? No, come trovo, Zula, come ti piacciono? Mi piace tanto, sì, certo, sì. Mi devi dirlo per forza, perdonami, siamo ora divisi a Dance Station, qua siamo Musica Dance, che diceva che mi faceva schifo. Vai, 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 vai. Rientreremo e partirà lo spettacolo, potrete accomodarvi fino a questi cavi qui, a visitatevi pure. Signori, se vi volete accomodare, venite, venite. Te amo, signori. B audiero, vi giù, sei stai sui, vuoi sei stai sui, vuoi sei stai sui, vuoi sei stai sui e scai sui. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti